Ciao amiche, eccomi qua, vi faccio vedere i nuovi colori che ho preso da Cristaline, ormai è un anno che acquisto da lei, quasi un anno, e niente, sono tutti colori infernali per chi ama l'inverno, quindi vedrete tutte creazioni infernali, vi faccio vedere i codici da vicino senza che ve li dico perché con il telefonino è praticamente impossibile ripetere uno per uno i codici dei colori, se vi piace qualcosa, qualche colore me lo dite, commentate sotto il video e io vi dico subito il codice, queste sono le anticipazioni, farò due video perché non entra tutto nel video delle cose che ho preso, spero che vi piacciono, questo è un colore bellissimo, che mi ha praticamente colpito, anche questo, poi il verde io lo adoro completamente, ho preso anche delle perle che ho in mente qualcosa di diverso dal solido,